Alle 9 di questa mattina ha traccato a uno dei moli del porto di Taranto la nave Ocean Viking di SOS Mediterranea e Medici Senza Frontiere per lo sbarco dei 176 migranti soccorsi l'altro ieri in due distinte operazioni a una cinquantina di miglia dalle coste libiche. Si tratta di 131 uomini, 12 donne di cui 4 incinte e 33 minori di cui 23 non accompagnati. A organizzare le operazioni di accoglienza la prefettura di Taranto che per l'assistenza ai profughi si è coordinata con il comune di Taranto, il comando della polizia locale, l'autorità portuale, il comando marittimo sud della marina militare, i vigili del fuoco, la ASL, il 118, le associazioni di volontariato, le forze dell'ordine e la croce rossa. La nostra preoccupazione, quella dei servizi sociali, è volta ai minori. Ci hanno già anticipato che sono 23 i minori che sbarcheranno oggi e che si uniranno ai 60 già seguiti dai servizi sociali. Verranno inseriti poi all'interno delle comunità educative così come si è fatto anche per gli altri. Subito dopo le operazioni di screening e subito dopo le operazioni di identificazione. Quindi noi siamo qui come in comune di Taranto, siamo qui con le assistenti sociali, con la polizia municipale, al fianco di questa grande operazione che vede coinvolta la Questura, ma soprattutto sotto il coordinamento della prefettura di Taranto. A testimoniare ancora una volta che noi ci siamo, c'è stata l'adesione proprio alla campagna Io accolgo. Abbiamo esposto sul balcone del Palazzo di Città una coperta termica. Una coperta con la quale noi simbolicamente intendiamo abbracciare questi immigrati e soprattutto far sentire la nostra vicinanza a quelli che sono state le loro sofferenze, il terrore dal quale stanno scappando via. Per rimarcare che Taranto è una città accogliente, non rifiuta nessuno, soprattutto chi è più debole ed è questo il caso di oggi. Noi siamo solidali con i nostri fratelli e quelli che oggi verranno qui a Taranto sono nostri fratelli, li dobbiamo accogliere con un grande abbraccio. Tenete conto che la nostra accoglienza è un'accoglienza transitoria, non saranno in via definitiva, ma anche in questo breve periodo in cui saranno qui a Taranto devono sentirsi accettati ed amati. Così gli assessori Ficocelli e Ressa, tutta la giunta comunale presente in un momento di accoglienza. E l'attracco al primo sporgente del porto di Taranto di questa nave ha aperto il fronte politico della polemica, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello locale, come vi testimoniamo con quest'altro servizio. Siamo qui con una delegazione di parlamentari, tutti i parlamentari della Puglia, con il segretario regionale Luigi Deramo, con l'europarlamentare Massimo Casanova, il senatore Roberto Marti e i deputati Rossano Sasso che vi sta parlando e la collega Narita Tateo insieme all'onorevole Gianfranco Chiarelli semplicemente per esprimere in maniera democratica e pacifica il nostro dissenso ad una nave francese, ad una ONG francese che batte bandiera norvegese, che ordina al governo italiano che vuole attraccare e il governo italiano concede il porto di Taranto. Taranto, come voi ben sapete, essendo giornalisti peraltro di questo territorio, è una città, una provincia martoriata e ha tantissimi problemi, dove a mio parere non è una questione di accoglienza sia accoglienza no, perché l'onorevole Sasso ha ben spiegato le differenze che poi non si verifichano, però io penso che proprio Taranto e la sua provincia non meriti di essere poi identificato come un porto dove poter far sbarcare tanta accende che poi sostanzialmente rimane alla deriva, sostanzialmente non gli si dà la possibilità di reinserirsi, perché il tema è sempre questo. Vediamo le nostre periferie, sappiamo che ci troviamo in una situazione di grande difficoltà proprio per il dato ambientale e sanitario, per cui io penso obiettivamente che dovevano scegliere un altro porto e non sacrificare ancora una volta la nostra città, la nostra provincia. La Lega in forze al porto di Taranto, ma anche Fratelli d'Italia, Direzione Italia. Le persone in mare vanno salvate, questo lo dice il diritto internazionale, ma anche le regole spesso non scritte della marineria. E poi a terra? Ma non è in discussione il dovere dell'accoglienza, della solidarietà e della cooperazione internazionale. Il punto è un altro. Le politiche, gli orientamenti politici del governo rosso-giallo, penso alla riproposizione allo Ius Soli, penso alla riapertura dei porti, penso all'ammiccamento alle ONG, stanno provocando di fatto una partenza di massa di flussi immigratori che arrivano in modo incontrollato, indiscriminato e senza possibilità di integrazione. Per dare la nostra vicinanza a Taranto, soprattutto perché non diventa poi un'abitudine, che il nostro porto diventa una lambedusa a due. Questo è quello che cercheremo di non far succedere nel nostro territorio. Intanto molti cittadini all'esterno del porto a manifestare il proprio sentimento di accoglienza. All'interno una delegazione. Come CGL abbiamo organizzato questo sit-in oggi per portare testimonianza della volontà di cittadini che vogliono continuare ad accogliere, essere integranti e vogliono dare la solidarietà alle persone che stanno vivendo e hanno vissuto un momento terribile. E non manca per finire la polemica. Vogliamo avere notizie su dove verranno collocati i minori non accompagnati, perché gli ultimi due sbarchi, i minori non accompagnati, sono stati collocati nei CAS per minori che avrebbero dovuto essere già chiusi da oltre un anno.